Allora eccoci qua ho preparato tutti gli ingredienti Questa è la semola io userò semola rimacinata di altamura la verso in una ciotola e ci metto l'acqua vedete questa focaccia ha un'alta idratazione tipo 90% perché sono 400 grammi di acqua la faccio assorbire così piano piano girando la semola assorbe diciamo benino però bisogna girare piano piano cioè avere pazienza io qui ho accelerato un pochino per non annoiarvi però vedete ci ho messo un po' di tempo per farla assorbire Quindi continuo a girare e poi la lascerò in autolisi vedete l'ho messa quasi tutta lascerò in autolisi per 30 minuti Quindi copro con un telo e aspetto Questa è una ricetta che ho visto di fulvio marino sapete che lo seguo però l'ho modificata ecco qui passati 30 minuti ci vado a mettere il licoli L'ho modificata per adattarla appunto al lievito madre ci metto 100 grammi di licoli 100 grammi poi finisco di versare l'acqua ne metto prima un po' giro e piano piano poi metto tutta l'acqua quindi ho messo tutti i 400 grammi Quindi dicevo l'ho adattata al lievito madre però ho fatto anche qualche cambiamento diciamo le dosi sono della ricetta di fulvio Invece di 500 grammi ho messo 450 questo perché ho aggiunto il lievito madre Allora una volta girato girato con la spatola dopo aver messo il licoli ci aggiungo anche l'olio e giro così Naturalmente potete anche usare la planetaria Io procedo così proprio come ho visto fare a fulvio in tv Quindi aggiungo l'acqua piano piano Continuo a girare qui naturalmente ho fatto qualche taglio però prendetevi tutto il tempo Per far assorbire bene l'acqua Vedete questa è l'ultima Ho messo il sale e ci ho messo l'acqua sopra Ok Posso continuare anche così con la mano E l'impasto comunque rimane grezzo Non serve non c'è bisogno di farlo incordare subito Perché vedete qui ho accelerato un pochino Perché poi va lasciato così coperto a lievitare in frigorifero Quindi lo lasciamo così lo copro Lo copro con un coperchio e lo metto in frigo per due ore Una volta pronto ho preparato un po' d'acqua Vedete per bagnarmi le mani Eccolo qua vedete come si è rilassato Stando due ore in frigo come il glutine comincia già a lavorare E' ancora un po' rustico però ecco faccio subito le prime pieghe così in ciotola Ci metto un filino d'olio sotto per non farlo appiccicare E vedrete che dopo tre giri di pieghe Piano piano l'impasto comincia a diventare elastico E a prendere corda Quindi farò tre giri di pieghe ogni ora Con il riposo di un'ora tra l'una e l'altra Bene questo è l'ultimo giro Guardate come si presenta bene l'impasto Vedete eccolo qua Quindi faccio l'ultimo giro in questo modo In ciotola però se volete potete anche fare giri direttamente sul piano Sul piano di lavoro Adesso vi faccio vedere un attimino come farli Basta bagnare un pochino il piano E faccio le pieghe così Quindi vado avanti con le pieghe Dopo l'ultima piega Quindi dopo che ha riposato un'ora Fatta l'ultima piega L'impasto andrà fatto lievitare Io ho lasciato l'impasto lievitare a temperatura ambiente 6 ore Ma se andate a guardare la ricetta di Fulvio Lui suggerisce di mettere 12 ore in frigo Quindi a questo punto dovete fare il passaggio in frigo di notte E iniziare il giorno prima Il mio impasto eccolo qua è pronto Io ho preferito fare così perché non mi sono trovata con i tempi soltanto per quello Quindi 6 ore è stata a temperatura ambiente Invece di fare 12 in frigo l'ho fatta Ho fatto le 6 ore la metà praticamente Come vedete l'impasto è molto bello Guardate Ho oliato una teglia Poi vi scrivo le misure di questa teglia Ci ho versato sopra l'impasto E poi l'ho girato Qui mi sono impicciata un pochino Però vedete voi Lo girate così l'olio va anche dall'altra parte Ok Lo allargo così piano piano con la punta Cioè lo allargo, lo spingo Non serve allargarlo perché poi deve lievitare ancora un'oretta E quindi poi si sistema da sola Ovviamente potete usare anche una teglia rotonda se volete Una teglia del diametro di 23 cm Vedete che belle bolle E' veramente bello questo impasto Morbido sembra proprio Che so una nuvola Ci metto un po' d'olio così Lo copro Lo copro con la pellicola Qui sto mettendo il sale Ma dopo ho aspettato un pochino Prima di mettere il sale una mezz'oretta Quindi avevo coperto con la pellicola Poi l'ho scoperto Ho messo il sale Ci metto anche il rosmarino E lo copro ancora intanto che si scalda il forno Quindi diciamo che deve stare ancora un'oretta Prima di andare ad infornare Bene Ho acceso il forno A 250 gradi E l'ho fatto scaldare proprio bene bene Ecco qua vedete Ho messo ancora un po' d'olio Poi se vi piace più unta Mettetene di più Ma non ho riempito i buchini Come di solito si fa Con la focaccia tipo genovese Ho messo non molto olio Quindi ho allargato ancora E sono andata ad infornare Al piano basso Non a contatto proprio sotto Però al piano basso Eccolo qua Vedete si sta gonfiando Perché questa focaccia deve venire bella morbida Però sopra dovrebbe venire croccante Io quando ho visto che sopra stava cuocendo L'ho appoggiata proprio 5 minuti Proprio a contatto col piano sotto Per farla venire bella croccante anche sotto E poi l'ho rimessa al secondo giro diciamo Al secondo piano scusatemi Guardate com'è bella sotto È venuta bella croccante Adesso vediamo l'interno Perché dovrebbe rimanere morbida Quindi tagliamo la scotta Scotta tanto Però voglio vedere com'è dentro E poi è bello mangiarla calda Caldissima Vediamo Bellissima Guardate Bella Veramente bella Faccio ancora i ritagli Brucia Guardate com'è morbida È croccante All'esterno è sotto E dentro è morbidissima Beh io direi che è riuscita molto molto bene Questa focaccia Nel canale c'è già un altro video Che avevo fatto qualche anno fa Non ricordo nemmeno il procedimento Poi andrò a vedere Ma questa devo dire è venuta perfetta Beh adesso vi saluto Perché vado a cenare Un pezzettino la mangio con la mortadella E un po' di pistacchio sopra Ciao a tutti E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 a tutti 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 Grazie a tutti.